Ciao ragazzi, musica maestro, grazie. Sei bellissimo, ha cercato d'amore, ti stavo a guardare, sei bellissimo, ha cercato d'amore, ti stavo a guardare. Sei bellissimo, sei bellissimo, ha cercato d'amore, ti stavo a guardare, ti stavo, ti stavo, te stavo a guardare. Non sono una signora, una con tutte stelle nella vita, non sono una signora, una per cui la guerra non è mai finita. Oh no, oh no, oh no, non sono una signora, una per cui la guerra non è mai finita. Non sono una signora, una per cui la guerra non è mai finita. Non sono una signora, una per cui la guerra non è mai finita. Grazie ragazzi, musica maestro, vai! Rossa e rossa è per te, ho comprato stasera, ma il cuore non sa. Cosa voglio? 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 La pazienza delle donne incomincia a quell'età, quando nascono in famiglia, quelle mezze ostilità, e ti uccidi dentro un cinema a cercare di attarviare con il primo che ti capita o che ti dice una bugia. Gli uomini non cambiano, fanno i soldi per comprarti e poi diventano da soli gli uomini, ti uccidano. Gli uomini non cambiano, ma perché gli uomini che nascono sono figli delle donne, ma non sono come noi. Gli uomini non cambiano, sono quasi un ideale che non c'è, sono quelli innamorati come te. Ho visto un uomo che moriva per amore, ne ho visto un uomo che mi dura il guai. 10 ragazzi per me posso bastare 10 ragazzi per me posso dimostrare Troppi di biondi da carettare E' una bella stessa sulle quali morire 10 ragazzi per me che ti controllo di te Vorrei sapere che ha detto che non vivo più senza te Che posso averne una per il giorno Una per la sera Però quel matto ha detto una cosa vera 10 ragazzi per me 10 ragazzi per me 10 ragazzi per me che ti controllo di te Bene, musica maestro e benvenuti su Telesargio a The Life Show Conduco io questa nuova puntata di The Life Show Music A quest'ora contemporanea con lo show di Signorini Su canale 5 alle 21 e 10 Studio 5 Come presenta Alfonso Signorini Su canale 5 Questa sera Studio 5 Ospiti Superospiti Prime donne straordinarie della rete E' cioè Paola Perego Federica Panicucci E Alba Paglietti E domani saranno da me Oggi da Signorini E domani saranno ospiti da me Quei tele-Sergio Medio Stati ragazzi Stati con noi Non cambiate i canali Mi raccomando Adesso do una linea Alla una telepromozione E poi torniamo qui in diretta Ok? 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 Voglio vivere con te E' felice il canto Beatamente La 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 Voglio dire che sei E' felice il canto La 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 Quando mi abbraccia una ragazza Dopo che aveva pianto Poi si schiarisce la voce E ricomincia il pianto Se voglio bene sai, ma tanto tanto bene sai, è una cadena ormai, che scioglie il sangue di tappana, di tappana, di tappana. Se voglio bene sai, ma tanto tanto bene sai, è una cadena ormai, che scioglie il sangue di tappana, di tappana, di tappana. Se voglio bene sai, ma tanto tanto bene sai, è una cadena ormai, che scioglie il sangue di tappana, di tappana. Se voglio bene sai, ma tanto tanto bene sai, è una cadena ormai, che scioglie il sangue di tappana, di tappana, di tappana. Federica Pani, Cucci, che a settembre torna col mattino 5, saluto tutta la notizia, i nuovi mostri. Mi prego ragazzi, da settembre, al primo posto, il mio sogno, tutti quanti, anche Berbera D'Urso, sono andati, i nuovi mostri, anche io, voglio andarci. Caffo! Va bene ragazzi, seri, ritorniamo, seri. Musica è messa ragazzi, eh. Saluto il mio, la mia amica D'Urso, in che, ciao Antonio Ricci, ti saluto, bollo di mamma, se te più. Amore, se il mio bambolotto è preferito. Antonio Ricci, uuuuuh. Pesciolo, grazie, io, moscetti in povento. Ciao ragazzi, pubblicità tra poco, non capite canale. Il varietà non è morto, il varietà continua. Ciao!